Buongiorno, buongiorno a chi ci ascolta indifferita. Io sono Laura Percioli, sono professore di lingua e letteratura polacca all'Università di Genova. La cosa importante della mia presentazione è la seconda parte ovvero Genova perché grazie al mio soggiorno genovese adesso purtroppo interrotto dal covid ma che insomma riprenderà grazie a questa mia appunto presenza genovese che ho il piacere e l'onore di collaborare già non per la prima volta con il glorioso centro Primo Levi di questa città che ringrazio ringrazio moltissimo nella figura del suo presidente Piero dell'astrologo nella figura di Bianca Bellucci che in questo momento è il nostro Deus Ex Machina e che ci segue eh in eh oh Dio scusato il gatto che sto giocando sul tavolo e che ci segue non visibile ma ben presente e e siamo qui oggi con con mio grandissimo piacere anche un po' di emozione per presentare il primo libro di eh Gennaro della Volpe ovvero Raiz il bacio di Brianna che è stato pubblicato pochissimi mesi fa maggio di quest'anno da eh l'editore Mondadori ehm la 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 chiacchiera mia e le le cose interessanti che ci dirà Raiz saranno intercalate da tre brevi letture di Olek Minzer appunto relative a questo libro ehm come dicevo eh il bacio di Brianna è uscito eh pochissimo tempo fa ma già sono state eh organizzate una serie di 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 presentazioni sono uscite moltissime recensioni molte potete trovarle anche online e eh tutto ciò è dovuto ovviamente alla all'ottima qualità alla bellezza di questo di questo scritto che spero riusciremo eh almeno in parte a trasmettervi ma anche e Raiz mi ha già promesso che non si offenderà di quel che dico ma anche proprio alla figura del suo autore eh Gennaro della Volpe appunto in arte Raiz che è stato ormai da che è ormai da trent'anni se non sbaglio se non di più addirittura eh al centro della della vita musicale alternativa italiana poi Raiz mi dirà quanto quanto è d'accordo con questo termine alternativo che forse non so quanto quanto gli aggradi per cui eh pensavamo di dedicare i primi minuti di questo incontro proprio alla alla storia di Raiz che ci racconterà un po' di lui un po' eh come come si è definito aspetto voglio trovare le parole precise ecco eh sono uno scrittore ha detto in uno di questi incontri sono uno scrittore che si è sempre servito della musica per cui penso che sia interessante e bello sentire da lui direttamente come si è svolto questo passaggio e che cosa significa per lui essere uno scrittore essere stato uno scrittore musicista mh un'ultima un'ultima aggiunta generalmente gli scrittori si si irritano quando si chiede loro di eh riflettere su quanto di autobiografico ci sia nella loro scrittura quando molto spesso quando si chiede loro di raccontare appunto della loro biografia e di quanto questa si rifletta nelle loro pagine eh premetto che io personalmente eh in quanto mi mi occupo di critica letteraria sono in genere del tutto contrario a questo a questo modo di 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 vedere la letteratura pur lasciando ovviamente la massima libertà al singolo autore di pensare come meglio crede ma perché credo che sebbene la pagina stampata si è ovviamente ben diversa dalla vita dalla persona di carne e ossa che la scrive ma che ci sia sempre un rapporto molto forte e molto intenso fra la persona di carta e la persona appunto fisica che 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 la scrive e sono grata a a Raiz a Gennaro che per quanto riguarda almeno la sua opera sia d'accordo con me e peraltro mi sembra che in queste pagine sia un rapporto particolarmente evidente queste questo libro è pieno di di una vitalità di una fisicità così intense e che sono proprio caratteristiche di di Raiz di Gennaro della Volpe e mh a cui quindi passo la parola e a a cui chiedo di di raccontarci un po' di se stesso del suo percorso nella musica del suo percorso nella scrittura e poi anche per quanto ne avrà desiderio e voglia del suo percorso nell'ebraismo grazie Raiz ciao a tutti innanzitutto eh buongiorno grazie per questo invito molto gradito e e anche io sono un po' emozionato no parlare per il centro culturale né in una riunione del centro culturale Primo Levi insomma un po' rende anche eh chiude anche un po' un cerchio con questo libro che ha molto a che fare sebbene in maniera come dire tangenziale alla con la cultura con la cultura ebraica mh io sono un cantante e come come diceva Laura giustamente prima mi sono mi sono sempre considerato una uno scrittore che canta nel senso ho scritto sempre canzoni che avessero in cui in cui insomma c'è il plot era importante il concetto era importante e chiaramente poi per ogni le canzoni poi hanno la musica insomma il testo è solo una parte di quello che l'autore vuole comunicare e spesso uno si ritrova a pronunciare poche parole e a fare il resto con l'espressione vocale quindi con con la musica stessa con la musica diretta e immediata cioè la più in me la musica più immediata quella che esce dalla bocca ehm che è consegnare come dire l'effetto emozionante a al fisico oltre che alla alla mente quando mi sono ritrovato in chiuso come tutti noi nel nel lockdown della della pandemia insomma non ho potuto lavorare granché non ho fatto non ho fatto non ho cantato canzoni dai balconi non ho fatto concerti su internet perché penso che la nostra musica insomma abbia un valore e mi sono un pochettino risparmiato non è che poi e poi fare il concerto insomma così davanti al computer non è non è divertente manca il 50% dello scambio che poi insomma ci rimetto solo ecco perché a me piace stare davanti alla gente quindi non l'ho fatto e mi sono ritrovato quindi con una specie di senso mutilato è un po' come quegli arti senza poter fare paragoni assolutamente grazie a dio ci vediamo tutti i cinque sensi funzionanti però dico senza poter fare paragoni strani però è giusto usando questa cosa come iperbole è come un artista che si trova mutilato comunque privato temporaneamente o per sempre di della vista oppure della parola sviluppa un'altra cosa cioè va questa urgenza di comunicazione si era già manifestata in me prima però appunto ripeto un po per picrizia levantina ma scrivo due parole resto lo faccio con la voce è un po perché perché tutto quello che scrivo non mi piaceva non riuscivo a trovare una una retorica che fosse interessante principalmente per me quindi l'ho lasciata perdere adesso invece improvvisamente mi si è manifestata qualcosa di ho fondamentalmente intuito e ho capito quello che volevo scrivere e come lo volevo scrivere e quando come per tutte le cose quando si trova il modo di fare le cose le cose poi arrivano di conseguenza in special modo se uno ha già dentro insomma un patrimonio ecco un deposito qui lo chiamo di cose da raccontare e ho trovato il modo delle racconti le racconti tutte io poi ho un sono nato a Napoli e sono cresciuto in provincia di Milano perché sono appunto appartengo a una di quelle famiglie che negli anni 70 sono andate a cercare lavoro al nord e ho avevo che ho avevo ho un'origine ebraica dico avevo perché prima avevo solo un'origine ebraica poi questa nel mezzo del cammino di mia vita insomma mi sono come dire imbattuto proprio nella curiosità e nella voglia di portare fino in fondo ecco di conoscere di entrare in questa origine che non era lontana ma comunque non era sufficiente per no per assicurarmi come dire il posto nel miniano come si dice dalle nostre parti se parti generiche insomma e quindi ho fatto un percorso formale proprio per di riavvicinamento all'ebraismo è stato un viaggio chiaramente molto bello mi ha restituito tantissime cose che pensavo fossero mi appartenessero e poi alla fine mi appartengono ho fatto ho trovato nell'ambito del mondo ebraico una moglie per metà israeliana mi sono sposato ho fatto una figlia abbiamo fatto pure l'alià perché mia moglie metà israeliana quindi a un certo punto abbiamo fortemente voluto ho scelto di andare a vivere in israel e potevamo farlo c'era la possibilità perché c'è la casa della nonna polacca che non c'è più purtroppo di come la casa di telaviv della nonna polacca di mia moglie e quindi dove abbiamo fatto base per tanto tempo poi siamo tornati in italia poi ci ha preso la pandemia poi anche lei lavora tanto lavoro da siamo rimasti qui il proposito insomma non abbiamo abbandonato l'idea di tornare però insomma al momento siamo siamo qui comunque abbiamo due patrie e questo è è così quindi stare da una parte dall'altra come dire è abbastanza la stessa cosa chiaramente la tensione la curiosità l'emozione di vivere eh in israele e di 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 anche se comunque è un paese che ormai ha già la sua storia da una storia già abbastanza formata sebbene sia un paese molto giovane hai hai l'impressione no di poter contribuire in qualche modo o no visto che è piccolo e giovane con la tua col tuo stesso sangue con la tua stessa progenie alla all'andare avanti no l'italia millenni di storie dire tu ci stai o non ci stai è abbastanza la stessa cosa invece sarei magari hai l'impressione no di poter di di essere quel granellino quel chicco di melograno no che di rimon che insomma diventa importante ma chi lo sa sono tutte cose tutto tutto molto romante tutto fa parte del anche dell'anima di un artista no credere nei sogni eh nutrirsene insomma è è bello anche così mi sono poi a quindi a quindi a questo punto mi sono ritrovato a scrivere in pandemia stimolato anche dall'editor da un editor che avevo conosciuto e che aveva letto insomma le la la genesi di questo di questa raccolta di racconti mi aveva incoraggiato molto ad andare avanti so benissimo che comunque la eh la mia popolarità sebbene nel mondo come dicevi tu alternativo underground no faccio parte di questo gruppo da ormai trent'anni siamo Alma Megretta che sta ha scavato ha scritto una pagina importante dell'underground italiano negli anni novanti un gruppo che ha mescolato sono l'ità mediterranee con il regga il tab la musica elettronica è un gruppo che ha fatto ha avuto collaborazioni importanti all'estero magari e scusami eh Raic su Wikipedia non solo risulta che Alma Megretta che voi avete vinto non so quanti premi tenco ma che è il gruppo musicale italiano che ha vinto più premi in assoluto sì sì certo ciò non crederei adesso con i miei soci amici fratelli da una vita vabbè peccato che questa cosa non ha corrisposto l'adeguato compenso in denaro però eh sarebbe la solita risata che ci facciamo nel senso che noi siamo stati siamo un gruppo molto blasonato e la critica ci ha sempre portato insomma in alto ha sempre scritto molto bene di noi e spesso come succede ai gruppi in cui insomma che piacciono molto alla critica poi piacciono di meno al al popolo in generale però quelli che i fan che abbiamo sono fan affezionati ne abbiamo tantissimi a Napoli perché noi abbiamo scelto come espressione vocale io ho scelto il napoletano quasi sempre i pezzi degli Alma Megretta sono il napoletano qualche volta c'è qualche incursione in inglese nel prossimo disco ci saranno anche diverse digressioni in ebraico l'italiano è abbastanza assente è una lingua che non riesco ad usare ho usato poche volte ecco il napoletano mi sembrava più diretto è una lingua non ufficiale è una lingua che può essere distorta e piegata ai voleri della ritmica così come l'inglese parlato per esempio dagli afroamericani ho scoperto pure l'ebraico al suo al suo fascino perché anche lì ci si può fare abbastanza c'è cose che gli si può far fare questa lingua insomma cose strane sulla ritmica poi vabbè vedrete insomma quando chi vorrà ascoltare però nella prosa anche il tuo italiano fa cose strane no sì e l'italiano appunto l'italiano mi mancava l'italiano quando sono andato a scrivere ho recuperato questo rapporto con l'italiano che appunto era stato un pochettino messo da parte nella nella scrittura musicale è una lingua è la lingua che mi ha cresciuto comunque io ho studiato in italiana che ho studiato in napoletano impossibile ho studiato in italiano ho fatto il liceo classico ho una formazione classica quindi è la lingua che mi ha cresciuto che mi ha che mi ha fatto maturare che mi ha offerto la possibilità di di leggere l'altro giorno ho fatto una lettura d'antis a lecce ed è stata una cosa veramente emozionante perché era un po riaprire quello che era stato chiuso magari al alla fine della scuola e per scoprire che dante è una cosa meravigliosa e molto anche molto popolare quindi voglio questo è solo un po dal nostro discorso però la lingua italiana è questa magnifica cosa io loro mi ci sono mi ci sono seduto dentro come in una vasca da bagno bella calda quando hai freddo e questa è stata la sensazione e e ho goduto del fatto di poter scrivere in italia di poter essere poter scrivere cose lunghe poter scrivere a lungo cosa che per una canzone una canzone insomma non è che poi si puoi cantare un pezzo parlato scrivi una poesia dice è sempre una cosa moderata adesso ho potuto scrivere tanto mi sono mi sono molto divertito e ho usato sempre l'italiano anche quando i personaggi i miei personaggi napoletani parlano il napoletano parlano in realtà un italiano piegato alle regole grammaticali napoletane quindi l'italiano sicuramente non corretto dal punto di vista ortografico grammaticale a consecucio temporum quella di quella del napoletano cioè quella è quel napoletano bizzarro che parlano i napoletani ancora di più no accentuato dalla dal tentativo proprio volontario di farlo di farlo sembrare così quindi l'italiano c'è sempre non ti sento più però scusate non avevo riattivato l'audio e ci ho visto che siamo già a abbastanza avanti con con i tempi forse possiamo passare a parlare del libro io purtroppo non ve lo posso far vedere perché ce l'ho qui su kindle eh però vedete la copertina sulla sulla locandina del nostro incontro forse non so se raizzi hai una hai una copia accanto a te per farcelo però posso allontrarmi un attimo per prenderla dai perché i libri hanno la loro fisicità e anche se lo vediamo soltanto tramite lo schermo del computer qualcosa qualcosa ne traspare che cosa è questo libro sono venti brevi racconti o eccolo per altre anche molto bello ha una bellissima copertina una bella ha una bella dimensione insomma è uno di quegli oggetti che fa piacere avere in mano e ma guarda come vi assomigliate sembrate la stessa persona la scelta è una scelta editoriale mettere la mia faccia in copertina se potevano usare tante copertine ne sono state provate tante alla fine e questo ci riporta un po all'inizio del nostro discorso è chiaro che sono stato pubblicato perché questo disco questo disco perché questo libro è stato considerato un bel libro è chiaro che sono stato pubblicato anche perché ho una possibile fan base no che può comprarlo questo naturalmente ecco io ho voluto fortemente il gennaro della volpe che il mio nome è anagrafico no tra l'altro credo di essere l'unico cittadino israeliano che si chiama gennaro io un un sorteggio certo per capire se questa cosa è vera ma senti noi aveva noi conoscevamo bene un rabbino che si chiamava antonio di gesù che forse anche tu hai incontrato per cui tutto è possibile anche in israeli anche lui era israeliano certo e quindi ehm questa la foto era dovuta non facciamo gli snob se è il gennaro della volpe lo scrittore ma dai non nasconderti sei comunque la essi in arte la essi mettiamoci la tua faccia sfruttiamo è una zappa sui piedi che voglio dire i libri scriviamo anche per venderli e quindi esatto esatto sì come sempre eh una una delle tue frasi che mi hanno colpito nelle durante le tue varie presentazioni noi scrittori creiamo delle emozioni e le vendiamo come lo dici in maniera diretta e quasi con una certa violenza sì sì come esprimi questo questa cosa che poi insomma ben sappiamo che è uno dei dei trucchi come tu dici uno dei misteri la psicopatia dei no degli scrittori degli artisti c'è calarsi calarsi volontariamente in un mondo magari di sofferenza che in quel momento uno non sta soffrendo però devi scrivere di sofferenza allora vai a scavare nella tua sofferenza ci rientri e vedi che soffrendo ne scrivi in maniera credibile è terribile cioè se ci pensiamo è subdolo pure no perché però d'altronde d'altronde la la magia dell'arte della letteratura è quella di farci vivere più vite rispetto alla nostra no è l'unica possibilità che abbiamo poi per vivere tante volte non soltanto una per cui dobbiamo vivere tutti gli aspetti della vita no anche anche questa sofferenza se vuoi a volte magari un pochino così sottolineata ma allora dicevo che che sono venti racconti si ho contato bene alcuni dei quali brevissimi come quelli che ci leggerà a breve e che trattano in apparenza di di argomenti svariati appunto alcuni sembrano direttamente autobiografici e parlano di una di un'adolescenza fra le brume della periferia di milano altri addirittura hanno sono raccontati in prima persona ma la l'io narrante è una donna eh altri raccontano di 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 eh ardenti storie d'amore e omosessuali fra un terrorista palestinese e un e un soldato scelto della eh dell'antiterrorismo israeliano non so se la se la definisci un ufficiale insomma e insomma vanno diverse storie raccontano di situazioni napoletane di mafia di camorra eccetera eccetera per cui sembra eh inizialmente sembra di ritrovarsi così di fronte a una così a un vestito di arlecchino che che sì è tutto molto interessante ma ehm ok e poi dopo un po ti accorgi e questa questa devo dire che personalmente è stata la cosa che più mi ha colpito del libro e che e nella quale se mi mi consenti più vedo un un atteggiamento ebraico perché qui il tuo ebraismo non viene dalla dedica in copertina a tua moglie a tua figlia Daniele a Lea eh se leggo bene ai miei amori o alle varie storie eh che si svolgono in Israele eccetera eccetera ma avviene eh dai personaggi israeliani e via discorrendo ma avviene dal fatto che il tuo mondo il mondo che racconti in queste pagine è un mondo che ha un senso dove tutto a un certo punto si ritrova dove c'è una rotondità il che non significa che ci siano lieto fini che generalmente non ci sono ma dove è il contrario di 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 quello che che scriveva in una frase famosa e spesso citata eh Hölderling uno dei grandi disperati della letteratura europea siamo un segno privo di significato i tuoi segni hanno un significato i tuoi segni in qualche modo si ritrovano i tuoi segni creano una un'immagine generale di un mondo che non è bello non è brutto è un mondo che vive e che appunto si può leggere si può capire che è nostro in qualche modo eh fra le altre cose e questo devo dire che questa cosa qui quando l'ho l'ho capita mi ha veramente molto toccata e commossa anche perché poi lo fa in modo che ho trovato molto molto sottile molto raffinato la tua scrittura che è anche molto molto irruente non vai a cercare le fioriture di stile ma c'è una una fioritura d'animo mi viene da dire che che ho trovato molto ma in questo lo sai per esempio leggendo in ebraico questa cosa qui mi ha mi ha cambiato molto nel senso l'ebraica è una lingua asciuttissima è comunque una neolingua dice un sempre un caro amico mio che rappresenta il direttore degli esteri di idiot haronot lui è uno che dice io spesso traduco per il giornale e lui è italo israeliano io traduco dall'italiano articoli di repubblica tre pagine d'articolo lo faccio in ebraico è una roba così è tutto sul contesto tutto si capisce dal contesto le parole possono avere tanti significati e quindi uno ne sceglie una è sicura del fa sicuro del fatto che il lettore comunque capirà e il lettore poi capisce chiaro questa cosa non traspare nelle traduzioni dei libri israeliani in italiano perché perché ovvio che il traduttore deve esprimere in maniera no più deve sviscerare il concetto dell'ebraico eh e lo deve riportare alla all'italiano ciò nonostante questo fatto di essere così secco no e non usare non usare sinonimi perché anche perché ce ne sono pochi a disposizione ce ne sono di meno sicuramente dell'italiano che è una lingua insomma estremamente retorica piena di di tante sfumature quella è una lingua più diretta e forse un po quella la cifra di di scrittura che ho trovato questo deriva anche dal fatto di aver letto cose così asciutte mi sono 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 contento comunque grazie per quella cosa che dici e è così è quella che chiamo la semplicità della complessità noi siamo esseri estremamente complessi cioè oggi c'è oggi c'è c'è molta tendenza alla reduzione ad unum cioè uno dice prendo no io sono questo e basta bravo ma io vorrei capire chi è cioè chi chi questa è una è una p non so manco pia non pia illusione quando pia è una pia illusione spesso invece è una cosa non simpatica oggi tutte queste manifestazioni bandiere sovranismi le identità mortifere le chiama minna luffo un bravissimo scrittore libanese cerco sono quelle che ti prendono e ti dicono che tu sei questo e devi essere questo e non puoi essere altro anzi se cerchi di essere altro stai tradendo quello che tu sei no sei un odiatore di te stesso su questa storia qui ecco il mio libro nella sua semplicità di 20 racconti vuole essere il contrario di questo dice no noi abbiamo identità diverse e ogni identità ogni uomo porta la sua identità perché sì è chiaro che abbiamo dei come come diagrammi di ben apparteniamo ad un insieme però poi ogni ogni singolo individuo è diverso e quindi tutta questa complessità è una ricchezza una ricchezza spesso pesante da portarsi in giro perché se tu nel mio piccolo ho diversi come dire appartengo a popoli che amano molto se stessi e che hanno quasi una specie di a volte o addirittura un'idolatria di se stessi il popolo ebraico spesso ricade nell'autoindulgenza nel fatto e i napoletani ancora di più cioè in realtà poi sono tutti cattivi tranne noi e questa questa è una cosa che tra i napoletani tra gli ebrei napoletani insomma c'è molto molto in comune fidatevi di me che sono quello e quello quindi ve lo dico in forza della mia identità che non è la vostra perché io mi 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 un altro questa cosa me la può contraddire solo un altro napoletano ebreo siccome siamo pochi allora aspetto quello che mi racconta dire lo ascolterò agli altri no perché questa è un'esperienza questa provocazione tra virgolette vuole dire appunto questo ognuno è se stesso e si porta in giro la sua complessità il libro è pieno di complessità è un treno che la vita va non c'è un fine non so se arriveremo alla fine della storia non so se un giorno la profezia di yeshayao si verificherà se un evento messianico come dire divino di origine divina di origine politica e questo è stato cercato negli anni scorsi si verificherà ma ecco siamo un treno in corsa il treno si rompe bisogna aggiustarlo in continuazione ecco questo è un po' più o meno la cosa esatto grazie ma ecco mi fa piacere che tu abbia toccato così delle note direttamente politiche perché questo ovviamente l'aspetto politico è un altro di quelli che sono molto presenti in questo in queste pagine e fra le altre cose eh mi ha colpito un racconto brevissimo poche righe dedicato ai vaccini allora il titolo è Zoccoli 1973 ovvero l'anno del colera a Napoli 48 anni fa sì ehm ma scrivere oggi di vaccino eh ovviamente è qualcosa che ci parla anche del dell'oggi per cui pregherei Olek di di leggere queste questo breve racconto su cui poi avevo piacere di di dire due brevissime cose rispetto alle mie impressioni non aver paura non ti fa niente mio padre cercava di rassicurarmi mentre eravamo in fila per prendere il vaccino era una giornata di fine estate io avevo sei anni compiuti da poco ricordo il castello più grande di quello che è il pianto dei bambini la folla sempre più numerosa il cielo con le nuvole a forma di animali arrivò il mio turno rigirai la manica tirando fuori la spalla il dottore mi chiese come ti chiami poi una siringa enorme a forma di pistola mi libero dagli incubi non mi sarei più ammalato sarei uscito di nuovo avrei di nuovo bevuto l'acqua della fontanella dopo un pomeriggio di mare quando stanco di tuffi tornavo con gli altri verso casa strisciando gli zoccoli su via caracciolo grazie peraltro ecco sentendolo adesso leggere tale che anche questo strisciando gli zoccoli su via caracciolo che non so se è un indecasillabo qualcosa ma insomma suona molto musicale ma leggendo questo racconto l'ho dovuto leggere più volte perché ogni volta mi domandavo gli zoccoli la mia impressione era che questo bambino non fosse proprio un bambino ma fosse una specie di di fauno di di creatura mitologica con questi zoccoli e la siringa pure sappiamo la siringa è una è una figura della mitologia greca molto cara e così un po' malinconica ma molto bella per cui è come come l'impressione se in questo così queste poche righe dove tu ci parli della presa di responsabilità verso il mondo di cui abbiamo bisogno se vogliamo che il mondo vada avanti e come dire sì ma se noi siamo responsabili andrà avanti tutto il nostro mondo noi siamo responsabili di tutto siamo responsabili dei fauni delle sfiringhe che cantano sulla riva dei fiumi greci e siamo responsabili del nostro mondo reale del nostro mondo fantastico ma ci vuole la responsabilità sì senz'altro beh bellissima questa cosa che tu abbia visto un fauno ma inizi napoletani insomma sono degli aspetti di esseri mitologici perché specie quelli che stanno spesso vicino al mare a mergellina e come sono stato pure io da bambino e sono metà pesci e metà e metà esseri umani si comportano in maniera strana così e quindi poi strascicando gli zocchi ovviamente che sono gli zoccoli di legno che sono proprio il simbolo prendi prendi sciacqua i tuoi le scarpe e tornate a casa ecco questo è il simbolo della libertà la libertà dopo la scuola la libertà di poter fare il bagno con i con i tuoi con i tuoi amici cosa che che ha vissuto quell'esperienza e colera insomma è l'anno in cui ho visto per la prima volta una bottiglia di amuchina che era in vetro mia madre diceva questo è importante ci dobbiamo lavare tutte le cose le verdure insomma lavava tutto con questa amuchina e poi è arrivato il bacino è arrivato questo c'erano i vaccini c'erano milioni di dosi di vaccino nella flotta americana ancora da largo della della baia di napoli perché gli americani erano impegnati ancora in vietnam avevano questo questo enorme suoi loro erano pieni di roba erano sempre pieni di roba quindi c'avevano i vaccini avevano i vaccini e si palesò questa possibilità i napoletani accorsero in massa e nessuno anzi c'erano arrivarono dei vaccini arrivarono in ritardo e ci furono delle manifestazioni con con gli striscioni vogliamo essere vaccinati abbiamo diritto alla cura il diritto alla cura e la cosa ad essere curati dallo stato è stata una cosa che è una parola una parola d'ordine che ha fatto parte di tutti i movimenti degli anni 70 degli anni 80 anche degli anni 80 l'idea che la collettività si debba prendere carico delle cure dell'individuo questa sembrava una cosa sdoganata insomma una cosa ormai assodata esiste un servizio sanitario nazionale che quando funziona in italia veramente e funziona veramente bene ma non funziona va bene però quando funziona funziona bene viene promossa sebbene in ritardo una campagna vaccinale e di vedere tutte queste voci io io non credo il mio padre eh quando mi ha portato lì cioè sono abbastanza sicuro mio padre non sapesse che cos'è una fase di sperimentazione uno due tre quattro di un vaccino cioè non sa non sapeva sicuramente bene cosa nel suo figlio no cioè cosa stavano inoculando nella spalla del figlio sapeva soltanto che il ministero della sanità aveva detto che andava bene e c'erano addirittura gli americani che si sa che insomma gli americani erano maghi in tutto erano bravi in tutto cioè che ci vaccinano ma perché perché rifiutarsi e questa cosa è Napoli è cambiata da un giorno all'altro che l'epidemia di colera poteva diventare eh insomma veramente eh una cosa importante mentre invece in in una settimana vaccinarono un milione di persone e finì lì eh sì senza fare allusioni eh perché poi certo certo ovviamente le situazioni sono sono molto difficili da paragonare però da un punto di vista storico e direttamente politico però da un punto di vista poetico invece sì quanto mai volevo eh chiedere di leggere un altro brano dove abbiamo è invece molto concreto la la il paesaggio israeliano che è un altro appunto dei dei protagonisti di queste pagine racconto si chiama a casa ci sono molte spiagge che potrei raggiungere il sabato mattina con mia moglie e la bambina potrei entrare al namal e arrivare fino a Tel Baruch oppure scegliere la direzione opposta andare a Gordon o Frischmann eppure il più delle volte restiamo proprio a Metzitzim che è praticamente di fronte a casa nostra c'è un chiosco molto grande che è bar e ristorante con tante sedie sulla spiaggia bella musica un po' trendy people di Tel Aviv che fa il brunch dopo qualche folle venerdì sera ma non è quello il nostro angolo preferito noi restiamo in genere dalla parte opposta in un posto libero dai racchettoni dove a una certa ora della mattina cominciano ad arrivare le famiglie con gli ombrelloni i bauletti frigo colorati con la roba da mangiare e si inizia un rito che io conosco sin dall'infanzia i volti abbronzati le belle donne appena pesantite dalle gravidanze gli scherzi e le risate le sigarette accese le orde di bambini che si buttano a mare non appena mettono piede sulla spiaggia con le mamme che gli strillano di non allontanarsi sono cose che mi riportano all'icola quando nella cumana ero io a voler portare sempre in braccio il mellone rosso e a volerlo tagliare per tutti lo spettacolo delle scorze verdi e bianche che rosicchiate da ogni doccia di frutto si ammonticchiano sulla sabbia mi rassicura mi fa sentire a casa anche qui a tremila e passa chilometri da dove sono nato grazie e qui ecco oltre alla alla così alla semplice bellezza di queste parole e c'è anche questo fatto che cos'è che ci fa sentire a casa a monnezza spazzatura i cascami c'è proprio quello che c'è di più di più umano no i resti i resti e e poi anche questo ricordo di condivisione perché tutti i ricordi appunto da bambino che volevi distribuire a tutti e poi un certo atteggiamento il riconoscere le persone no molto simili riconoscere anche a tremila chilometri di stati io magari questa cosa non piacerà a qualcuno più snob che dice questo fa fa sta facendo l'elogio degli arsim di arsim sono quelli che verrebbero chiamati coatti noi in ebraico però la ars definisce in ebraico e poi in arabo tra l'altro però definisce insomma il quad non faccio io io li vedo simili a che le persone con le quali sono cresciuto io che ci posso fare sono spesso molto abbronzati spesso molto una parola inglese molto loud c'è urlano strilla hanno tanti bambini che corrono a mare e qui c'è appena mangiato il bagno non lo puoi fare ma gli dovresti andare a prendere con una rete e questa cosa è una cosa che mi fa appunto sentire a casa mi ha fatto sentire a casa e mi ha e mi ha proprio detto veramente qualcosa di quello a qualcosa di commovente per me è una constatazione che ho fatto un giorno che poi con mia moglie ci divertiamo molto che lei dopo tanti anni ha imparato non a parlare ma a capire il napoletano e io mi diverto il background vedo per esempio una coppia che discute e gli faccio il doppiaggio il napoletano quello che dice lui a lei e lei a lui e le espressioni sono perfette se non sia la possibilità di fare di montare l'audio sarebbe perfetto ora magari non so cosa che stanno dicendo ma non sono sicuro di non sbagliarmi tanto che come le come è appunto l'apparenza spesso anche la mentalità semplice fatta di cose insomma di cose che sono pure a volte beceri e retrive e così ma ma che comunque mi fanno sentire a casa appartengono proprio al mio uomo certo e poi siamo tutti un po' beceri e retrivi no è inutile pensare che non sia così siamo tutti e quando troviamo questo tipo di beceraggine ci piace credo che che il nostro tempo stia stia per finire e allora magari sentiamo l'ultimo l'ultimo brano che 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 avevamo pensato che 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 potesse leggere ole che è una degli ultimi racconti e adesso senza starvi ovviamente a raccontare tutte le storie perché non voglio fare lo spoileraggio del del libro però abbiamo uno uno dei vari incontri non si non si chiarifica nulla ma abbiamo incontri di tre persone similissime diversissime la figlia segregata in casa Castelvolturno del boss napoletano il il giovane bellissimo immigrato dal Senegal che che sperava pure lui di cambiare il mondo in Italia invece è finito a fare il bodyguard appunto della del boss della della malavita e un giovane bell'israeliano eh studente di medicina a Napoli che per una serie di storie deve in qualche modo e per cui eh fa un piccolo spazio di 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 stupefacenti e abbiamo questo questo piccolo incontro che peraltro i tre monoteismi che si incrociano in queste rappresentazioni così poco poco eh straordinarie rispetto al al concetti che che potrebbero rappresentare leggendolo mi sembrava di vedere dei dei quadri disegni dei eh dei futuristi russi no con la freccia rossa che si incunea eh nella nel parallelepipedo bianco e l'altra l'altro punto di forza che li raggiunge da un altro lato della della superficie e e non succede nulla ma succede tutto allo stesso tempo e Alec grazie il il racconto che Alec leggerà adesso si chiama La lingua di Gesù per Caterina la figlia quattordicenne di Raffaele abbondante andare a Napoli era un piccolo evento siccome lui riduceva al minimo le uscite di casa delle due figlie della moglie Carmen per paura di vendette trasversali le donne di casa si ritrovavano di fatto segregate nella loro villa di Castelvolturno l'estate era sopportabile perché la piscina smorzava la calura e dava la possibilità di far un po' di sport ma d'inverno tornata da scuola Caterina si immalinconiva non poco davanti ai tramonti che preludevano a lunghe serate di noia così quei sabato mattina in cui suo padre aveva da fare al centro storico si trasformavano in piccoli avvenimenti in cui lei sua sorella Barbara e la madre andavano a fare shopping protette dalla presenza di Yusuf detto Mastino il muscoloso senegalese assunto da poco come guardia del corpo una volta arrivarono più presto del solito al largo Donna Regina luogo dove parcheggiavano la Mercedes nera per poi avventurarsi verso Via Duomo e il Rettifilo fuori dal palazzo dove entrava suo padre per rimanerci un paio d'ore c'era c'erano una decina di ragazzi che ciondolavano su e giù un paio di loro sembravano deputati a mantenere l'ordine gli altri pareva che stessero facendo la fira per qualcosa era una bella giornata e Caterina quando c'era il sole e andava a Napoli si innamorava almeno tre o quattro volte mentre la sorella e la madre pianificavano visite di negozi fino a Chiaia la sua attenzione fu attirata da un ragazzo molto bello rosso di capelli ma con la pelle abbronzata che faceva parte del gruppetto sembrava uno straniero Eitan Persky studente israeliano di medicina e spacciatore di droga a tempo perso si accorse dello sguardo insistente di qualcuno alla sua sinistra e lo ricambiò gli occhi che lo fissavano appartenevano a una ragazzina bruna, secca e lunga distolse l'attenzione per indirezzarla a una pietra sul palazzo del Vescovato stava parlando al telefono con suo fratello a un certo punto avvertì una presenza alle spalle e il suo istinto di soldato d'élite prima e di piccolo criminale poi lo fece girare di scatto la ragazzina gli domandò da dove veniva e che lingua parla vengo da lontano disse con un sorriso Eitan parlo la lingua di Gesù non mi credi? la ragazzina lo guardò tra il divertito e l'offeso come fanno le donne quando un uomo che trovano interessante le prende in giro sopraggiunse Mastino disse a Caterina che mamma voleva andare la ragazzina salutò l'israeliano arrossendo un po' poi andò via facendosi giocosamente portare sulle spalle dell'uomo Eitan entrò nel palazzo a prelevare la roba per la settimana era il suo turno grazie Raizio io personalmente resterei a parlare con te ancora due ore ma credo appunto che lo slot concessoci generosamente dal centro primo Levi stia per chiudersi ma forse vuoi vuoi concludere tu in qualche modo una cosa io ti chiedo noi qui non possiamo mostrare filmati di youtube o altro perché credo che la legge non ce lo consenta però se tu forse volessi suggerire a chi ci guarda una clip in particolare a cui sei particolarmente affezionato e che ti si possa anche così seguire come cantante seppur minimamente faresti un favore e forse vabbè ma ce ne sono tante insomma su youtube basta digitare Raiz se siete più affezionati alla musica elettronica Raiz con Alma Megretta invece più insomma vi piace più la musica acustica più mediterranea faccio un bello spettacolo anche con i Radicanto quindi Raiz e Radicanto abbiamo tante cose tra l'altro parecchie incursioni anche nella musica sefardita che è quella che sento più vicino come napoletano e appartiene veramente al nostro ambito mediterraneo del sud al quale sono molto affezionato grazie grazie a voi tutti grazie grazie al centro culturale Primo Levi grazie a te Laura grazie a Olek Mincher amico che ha reso e mi ha fatto un po' commuovere nel senso io ecco una cosa è leggere i propri racconti una cosa è sentirli letti da qualcun altro e quindi grazie grazie mille grazie arrivederci ciao ciao ciao